Del Vecchio, allora, tra qualche giorno aprirà Corso Vittorio? Beh, sì, secondo ciò che abbiamo sempre detto, in linea con tutto ciò che abbiamo fatto, analizzato, visto e quant'altro, nei prossimi giorni, credo dopo un ultimo sovralluogo da parte della Regione Abruzzo per confermare l'autorizzazione ai mezzi pubblici per transitare sul corso Vittorio Emanuele. Già questa mattina sono ancora in corso i lavori per quanto riguarda la segnaletica. Tutto sta procedendo secondo la programmazione che ci siamo dati. Centrodestra vuole il referendum. Al di là della riapertura ci potrà essere questa consultazione popolare? Basta strumentalizzazione. Il centrodestra ha avuto tutto il tempo per decidere, per fare, per dire e non è riuscita a dire una sola parola di chiarezza su questo aspetto. Referendum, un atto democratico che certamente può trovare accoglimento ad una condizione. Non è Corso Vittorio sì o Corso Vittorio no. Non esistono questi tipi di referendum. Esistono referendum sulla mobilità vasta, non su piccole aree. È evidente che se così fosse, per quanto ci riguarda, non credo che sia questo l'atteggiamento corretto da tenere. Corso Vittorio si inserisce all'interno di una serie di mobilità che riguarda Via De Gasperi, Via Gobetti, Via Michelangelo e quant'altro. Quindi il referendum, che sono strumenti democratici, devono avere anche una finalità democratica che affacciano e individuano una complessità di argomenti e non singole e speciose situazioni.